Siamo a Vizzini, nel cuore della Sicilia e siamo da Leva Bio, da Giuseppe Grasso, che leva bestiale e fa anche grano. Con Davide Longoni da tempo ci siamo uniti, diciamo che siamo amici di Chicco. Abbiamo fatto delle grandissime cose, abbiamo anche introdotto in questo modo Giuseppe, che a parte fare allevamento, ha cominciato a fare appunto coltivazione di grani antichi. Allora, l'allevamento è tipico siciliano tradizionale. Per me la cosa più importante è che le razze vanno tutte bene, in qualsiasi parte del mondo, vanno tutte bene le razze. La cosa più importante è che gli animali vivano bene nel territorio, sul territorio. Questo pallino verrà fatto con pane di grandi siciliani, russello e maggiorca, una tartare di carne a Leva Bio, cipolla giarratana, peperoni e erbe aromatiche dell'orto. La fetta di pane viene adagiata, sopra la tartare condita con sale e pepe, la maionese e chiupi e poi il peperone a fettine sottili e a candire rosmarino. La tartare è che ci ricorda ancora i popoli nomadi che mangiavano la carne cruda e il pane è fatto invece da contadini stanziali, quindi una bella unione tra questi due mondi antichi recuperati. Grazie. 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 Grazie.